Un video di sette minuti per rivendicare i attentati di Bruxelles. L'ISIL riprende la sua campagna mediatica con un filmato realizzato a Ninive, in Iraq, in cui si vedono due jedisti belgi, uno di loro è Abu Abdulal Baliki. L'altro terrorista sembra offrire una tregua all'Occidente, in cambio della fine dei bombardamenti. Il video è stato diffuso nel giorno in cui sembra sul punto di essere annientata la cellula che ha compiuto le stragi di Parigi e Bruxelles, come ritiene il presidente francese François Hollande e come conferma il fatto che i due attacchi abbiano avuto uno stesso artificiere. A Bruxelles sono stati arrestati sei sospetti e potrebbe essere in mano alla polizia il terzo uomo entrato in azione all'aeroporto. Manca però la conferma che sia la persona ferita e fermata al tram di Skabek, mentre si cercano ancora Mohamed Abrini, complice di Salab de Slam e il secondo uomo della metro di Morbeck. Il domino sta venendo giù perché sono quasi tutti amici o parenti coperti da una rete di quartiere. Resta del rammarico di essere intervenuti tardi. Uno dei kamikaze di Bruxelles, Ibrahim El-Bakrui, figurava su una lista dell'antiterrorismo statunitense da prima degli attacchi di Parigi.